Allora per prima cosa ripassiamo l'ultima cosa che abbiamo fatto ieri mi dice ripetita io non fa una cosa allora avevamo detto noi abbiamo una retta R in equazione Ax più By più C uguale a 0 poi abbiamo un punto P di coordinate x con 0 y con 0 allora se vi ricordate la distanza di P da R è uguale al valore assoluto di Ax con 0 P y con 0 più C fratto la radice di A quadro più B quadro ora uno dice vabbè già stai mocando la memoria ieri ci hai detto che la memoria non deve servire serve in parte ma va controllata allora perché questa formula dovrebbe funzionare? intanto possiamo fare alcune osservazioni la prima osservazione è beh intanto se il punto sta sulla retta quando metto x con 0 e y con 0 qua mi viene 0 e infatti la distanza viene 0 perché questo è il numeratore poi se quando vado a sostituire x con 0 e y con 0 mi viene una quantità positiva o negativa c'è da dire che il punto non apparterrà la retta ma la distanza sarà sempre positiva quindi è ragionevole che qua ci sia in modo però l'assoluto poi perché dovrebbe essere qui la lice di A quadro più B quadro per un semplice motivo che ieri ho detto ma forse ripeterlo è più chiaro se io prendo questa equazione la moltiplico per 2 prendiamo lo stesso punto di prima no? la retta è la stessa di prima se io moltiplico questa equazione per 2 no? per esempio se io ho x più y più 3 uguale a 0 oppure 2x più 2y più 0 uguale a 0 la retta è la stessa però qua mi verrà il doppio di prima ok? non sì mi verrà il doppio di prima perché tutto è moltiplicato per 2 sia questo che questo e beh allora se tutto è moltiplicato per 2 devo anche dividere per 2 perché la distanza non è cambiata e la radice di A quadro più di 4 quanto farà? in quel caso deve fare esattamente quel fattore lì no? se io qua allora andiamo a vedere in quel caso viene 2 radica 2 però è così no no allora andiamo a vedere per esempio se io prendo l'equazione x più 2x meno 1 uguale a 0 sì perché prima se qua c'era 1 e 1 qua veniva radica 2 quando c'è 2 e 2 viene 2 radica 2 quindi il denominatore ovviamente in quel caso ok allora facciamo un esempio prendiamo questa retta R come ultimo controllo andiamo a controllare prendiamo P l'origine e andiamo a vedere che questa formula funziona cioè calcoliamo la distanza in maniera indipendente come è fatta questa retta ma qua è facile se io metto y uguale a 0 viene x uguale a 1 facciamolo un po' più qua scusate se io metto y uguale a 0 viene x uguale a 1 ho detto male ma ho scritto bene e se metto x uguale a 0 viene x uguale a 1 mezzo quindi questa retta passa per i punti 0 a 1 mezzo e 1 a 0 con il grafico è sempre un po' problematico a mano io non sono un buon insegnatore ok? ok? ora se io voglio fare la distanza devo tracciare la perpendicolare dall'origine a questa retta ma come posso fare per tracciare la perpendicolare posso prendere questo triangolo e girare 90 caratteristiche quindi questo diventa 1 questo diventa un mezzo e poi unissimo quindi se volete questa retta avere la coefficiente angolare meno un mezzo questa retta che è perpendicolare abbiamo detto ieri quindi questa retta y uguale 2x adesso devo andare a fare l'intersezione delle due quindi se x è uguale a 2x viene viene 5x uguale 1 quindi x uguale un quinto y uguale 2x ma devo fare quindi questo punto è un quinto 2x infine devo fare la distanza tra questi due punti perché devo fare la distanza tra queste e piede della perpendicolare che è il punto che ho appena calcolato e come si fa? devo fare la radice quadrata di qua viene 25 qua viene 1 più 4 25 ok allora andiamo a vedere se è vero nel nostro caso chi devo mettere al posto di x con 0 e x con 0 0 0 perché il punto era 0 quindi mi rimane solo c c era meno 1 col valore assoluto fa 1 sotto mi viene radice di a4 più b4 scelte apposta diversi per far vedere che viene radica 5 perché a e b sono 1 e 2 quindi la distanza deve venire 1 su radica 5 ma 1 su radica 5 è radica 5 più 5 quindi funziona ok con questo cosa voglio dire non è che voglio dimostrare quello che abbiamo dimostrato ieri è che quando tu vai a ricordare una formula se l'hai se hai opportunamente ragionato nel cercare di ricavartela più o meno te la ricordi però potresti non ricordartela bene allora tu che fai prima vedi se c'ha senso questa c'ha senso perché perché mi dà sempre un numero positivo perché se il punto sta sulla retta mi viene 0 perché se raddoppio diciamo se cambio l'equazione della retta moltiplicando questa equazione per 2 ma la retta rimane la stessa la distanza non cambia e quindi questo mi dice già che probabilmente la formula è giusta poi me la vado a controllare in un caso particolare magari non banale questo qua non è tanto banale è vero che ho preso c uguale a 0 però ho preso la diversità p quella cosa ho preso scusate c non è 0 ho preso p l'origine e ho preso c uguale a 1 per fare i punti più facilmente però non è un caso banale e quindi le cose funzionano e la formula sembra avere un senso più o meno coincide con quello che ci ricordiamo e allora lo potete dire ok? quindi ovviamente se una formula non la usi per 10 anni alla fine magari te la dimentichi però se l'agionamento è stato fatto in maniera come dire cioè facendo parecchi collegamenti con le altre cose che uno conosce e anche se non l'hai usata per molto tempo la ricostruisci in pochissimo tempo è un po' come andare diciamo come guidare la macchina quando hai imparato anche se poi non guidi per un anno vabbè ci metti un paio di giorni non è che non è che appena ricominci a guidare guidai a qualche campionato però recupero in breve ok adesso veniamo agli argomenti di oggi come ieri probabilmente esploreremo un po' andremo verso le 11 quindi non qua faremo sempre una pausa allora primo argomento preferisco prima parlare brevemente non mi dilungherò troppo perché questa cosa l'aveva rifatta durante i corsi in maniera più dettagliata però voglio seminare alcuni diciamo piantare alcuni paletti precisi per dare il concetto di funzione allora abbiamo due insieme questo che si chiama dominio e questo che si chiama codominio immaginate di stare a Luna Park voi siete diciamo gli avventori di un gioco nel quale si spara a dei pezzagli che stanno sulle mensole però c'è un colpo solo quindi qua ci stanno tutti quelli che hanno pagato il bigneto ognuno di essi spara un solo colpo qui invece ci stanno li faccio con li disegno con dei cerchetti diciamo qua ne ho fatti di 8 qua ne ho fatti di 9 questi sono i bersagli i possibili bersagli quelli che stanno sulla mensole tu puoi cercare di coprire allora la regola è che ognuno ognuno ha pagato il biglietto ognuno può sparare quanti costano 1 allora il ovviamente quando voi sparate all'una parte potete anche non colpire nulla però questo qua è un luna parte speciale fatto in modo tale che voi quando sparate quello rimbalza alla fine un bersaglio lo colpisce solo un ok quindi allora arriva il primo i bersagli poi si rialzano arriva il primo spara e colpisce qui arriva il secondo spara e colpisce arriva il terzo spara e colpisce arriva il quarto e colpisce arriva il quinto e colpisce qui un altro arriva il sesto e colpisce qua arriva il sesto arriva il sesto arriva l'ottavo ecco ma questa è la funzione formalmente lo scrivo perché è importante una funzione è una legge che ad ogni elemento x del dominio x grande associa uno e un solo elemento y uguale fx la legge la legge si chiama f decodominio y grande y grande ho lasciato uno spazio perché adesso la devo aggiungere qualcosa allora quando si scrive in stamparello maiuscolo anche sulle chat vuol dire che uno sta strillando infatti questa qua è importante allora la regola è arcieri, sparatori, come vi pare cioè questi sparano, ognuno ha un proiettile non ce ne ha due o zero, uno lo spara appagato il piede e quindi colpisce un bersaglio quale bersaglio è quello che vuole lui? chiaro? ad ogni elemento x in matematica la matematica odia scrivere frasi ama essere precisa e questo è un motivo per cui non si può modellare sempre tutto quello che capita con la matematica poi faremo un esempio di proposito perché a volte il modello matematico è troppo preciso per la teoria della realtà comunque in questo caso questo non ci interessa, questo aspetto vogliamo semplificare questa espressione da un punto di vista matematico ad ogni elemento x che cosa significa? in matematica si usa questo singolo che si chiama quantificatore universale e si legge per ogni quindi per ogni x piccolo del dominio x grande per ogni x piccolo appartenente a x grande ok? vabbè ovviamente anche qua del codominio y possiamo scrivere appartenente a y ogni acere colpisce un bersaglio è chiaro fino a qui? l'unica regola della funzione è che tutti gli elementi del dominio colpiscono qualcosa per ogni x esiste f di x e f di x è 1 colpisce un bersaglio non ne colpisce 3 o 0 1 per ogni x è f di x per ogni x è f di x per ogni x è f di x siccome può colpire quello che vuole lui ci possono essere benissimo bersagli che vengono ignorati così come altri che vengono colpiti più volte ok ok bene allora detto questo vediamo nel caso specifico potremmo scrivere qua è capitato che questa funzione non colpisca tutti i bersagli poi è capitato che in questa funzione ci sia un bersaglio colpito da due elemento del dominio possiamo modificare questa funzione? ne facciamo un'altra dove ogni bersaglio viene colpito da un solo elemento del dominio si può fare o è impossibile secondo voi? prendo uno di questi due invece di colpire qua mira qua se io questo lo mando qua ogni bersaglio viene colpito da una sola freccia dal massimo o non viene colpito o da una sola freccia ma non viene colpito da due frecci domanda possiamo invece avere un'altra funzione che colpisca tutti i bersagli in questo caso specifico? e perchè no? ah ecco perchè sono più bersagli che tiratori e ogni tiratore ci hanno solo uno allora se i tiratori sono uno e i bersagli sono nove non posso ammazzarli tutti è chiaro fino a qui? bene allora questo qua ha a che vedere con le funzioni che si chiamano iniettive, suriettive e poi eventualmente se sussistono tutte e due le proprietà bigliettive tranne che in Toscana dove si chiamano i gettive i gettive e surgettive e bigliettive adesso chi vuol dire che è una funzione iniettiva? ve lo scrivo stavolta prima in matematica poi voi me lo traducete nel linguaggio tiratori e i bersagli una funzione F si dice vabbè i dominio e i codominio sono quelli di prima non li sto a riscrivere si dice iniettiva se e solo se per definizione x1 diverso da x2 x1 e x2 sono la meglio del dominio implica f di x1 diverso da f di x2 quindi sono dato alla scrittura matematica selvaggia sono stato un po' di simbolo in realtà nulla di complicato però io sto dando una definizione una definizione è la spiegazione precisa di un termine quindi io chiamerò una funzione iniettiva se avete una definizione trovate un'espressione che si dice che la funzione si dice iniettiva si chiamerà iniettiva quando se e solo se è meglio specificare se e solo se perché vabbè io dico che un rigorista è scarso quando sbaglia 5 rigori su 10 poi magari dico che è scarso pure se ne sbaglia 7 su 10 scusate pure se ne sbaglia solo 3 su 10 quindi ci resta un attimo attento perché se io dico che un rigorista che sbaglia 5 rigori è scarso su 10 poi non so dire se uno che ne sbaglia 3 è scarso o no allora se io dico se e solo se ne sbaglia almeno 5 su 10 quello non ne sbaglia 5 su 10 quindi non è scarso è una definizione quindi io posso scegliere la definizione e posso scegliere quello che mi pare poi bisogna essere d'accordo per me è scarso e uno che già si è ne sbagliato e già è scarso no per me c'è un altro quindi è meglio specificare cosa che sui libri non sempre viene fatta se e solo se e poi ci scrivo anche def sopra per ricordare che sto questo non è diciamo questo se e solo se non viene dato un ragionamento cioè non è che una certa condizione è stata tramite un ragionamento tradotta in un'altra condizione equivalente no questo lo sto dicendo per definizione io la diamo in attiva quando capita questo e solo quando capita questo chiaro? qua che cosa c'è scritto? vediamo un po' se siete in grado di tradurlo voi nel linguaggio dal tiratore inversario i inversarie non si alzano più perchè ogni tiratore colpisce che due elementi distinti del dominio colpiscono secondo la legge imposta due elementi i colpici devono essere distinti allora che se i tiratori sono diversi i bersagli devono essere diversi i bersagli colpiti devono essere diversi non è quello che è detto il secondo va bene il primo non c'ho tempo di sticare ok? i tiratori distinti colpiscono i bersagli distinti allora domanda questa funzione è iniettiva? quella che abbiamo insegnato alla lavanda qui il schema abbiamo insegnato alla lavanda perché no? ci sono bastano solo due tiratori distinti cioè questo e questo che colpiscano lo stesso vediamo un po' questa è iniettiva? si ogni volta che io prendo due tiratori distinti colpiscono due bersagli distinti allora qual è la conseguenza? un altro modo di adesso andate a vedere i bersagli sui bersagli quante frecce cade? 1 oppure? anche 0 0 va bene allora se questo bersaglio non viene colpito da nessuna freccia questa definizione non mi fa né cato né freccia alla definizione fa diciamo caldo freddo cioè la funzione non è iniettiva quando esiste almeno un bersaglio colpito da più di un tiratore cioè se c'è un bersaglio su cui atterrano almeno tre frecce la cosa? la funzione non ha niente quindi dire che è una funzione iniettiva vuol dire che il tiratore colpisca un bersaglio distinti oppure possiamo anche dirlo ogni bersaglio viene colpito al massimo da una freccia o 0 o 1 ma da 2 in su no è chiaro? vediamo un'altra definizione una funzione f si dice subiettiva se e solo se per definizione per ogni y appartenente a y grande a protominium esiste x appartenente a x tale che f di x è uguale a y allora qui abbiamo incontrato una nuova lettera questa e rovesciata che si legge esiste va in coppia con i due punti che si leggono tale che o tali che a seconda se si chiama questo si chiama quantificatore universale cioè vi dice per ogni vuol dire per tutti gli elementi dell'insieme y grande l'altro si chiama quantificatore esistenziale cioè ci sta esiste almeno un elemento possono anche essere tanti ma almeno uno ci deve stare in x grande tale che succede qualcosa in questo caso tale che f di x sia uguale a x questo proviamo a tradurlo nel linguaggio tiratori i bersagli cosa dice questo? che che ogni bersaglio che ogni bersaglio viene colpito almeno una volta non mi dice che chi lo colpisce sia uno solo per esempio vediamo un po' prima prima di cancellare troppo prima per modificare la funzione e renderla iniettiva ho dovuto fare una modifica pesante cioè ho dovuto proprio modificare la funzione una delle frecce l'ho dovuta spostare chiaro? anche qua questa funzione è subiettiva? perché non è subiettiva? perché esiste un bersaglio che non è colpito c'è un bersaglio che non è stato colpito la funzione è subiettiva quando tutti i bersagli sono colpiti come potrei fare per renderla subiettiva? beh o aggiungo un dinatore che ci spara sopra ma più facilmente togli il bersaglio togli il bersaglio allora perché dico più facilmente? perché qua tutte le frecce tutti i grovigli delle frecce che vanno di qua e di là io non l'ho toccato ho toccato soltanto il codominio ho tolto un bersaglio e quindi ho tolto i bersagli basta togliere tutti i bersagli che non vengono colpiti e la funzione automaticamente diventa subiettiva quindi se una funzione non è subiettiva per renderla subiettiva è facile come si fa? basta stringere il codominio ci tolgo quello che non viene colpito ah quelli che vengono colpiti sono solo questi qua gli altri li togliamo ovviamente non è la funzione di prima però è parente stretta cioè le frecce sono le stesse è cambiato solo il codominio se invece la funzione non è iniettiva è torniamo alla situazione precedente allora questa funzione qua è subiettiva ci ho tolto due bersagli però non è iniettiva perché questa freccia l'ho rimandata qua quindi c'è un bersaglio colpito da due se la voglio rendere iniettiva uno dice ah vabbè ma pure qua è facile basta togliere un tiratore perché questa qua io non la posso rendere iniettiva spostando una freccia perché dove la sposto sposto tutti i bersagli sono colpiti quindi siccome adesso i tiratori sono 8 e i bersagli sono 7 la funzione non può essere iniettiva come prima se i tiratori erano meno dei bersagli la funzione non poteva essere suriettiva perché non aveva abbastanza di tiratori per colpire tutti i bersagli se i tiratori sono più dei bersagli siccome ogni tiratore colpisce un bersaglio quando li ho colpiti tutti questo si chiama in matematica al principio la piccionaia cioè se ho più piccioni che buchi dove metterli diciamo non buchi le casette dove metterli a un certo punto devo mettere due piccioni in una casetta quindi qua se i bersagli sono meno dei tiratori io se voglio la funzione iniettiva ma devo per forza togliere un tiratore ma perché questa situazione è differente è più grave della precedente quale tiratore devo togliere? uno di questi due però c'è un problema hanno pagato quale? hanno pagato eh diciamo così hanno pagato comunque a parte il fatto hanno pagato questa poi c'è tutta una storia allora il problema è qua la tolgo perché qua era chiaro qual era il bersaglio che dovevo togliere qua posso togliere questo tiratore qua posso togliere questo tiratore quindi ne posso originare due di funzioni iniettive quantomeno in maniera più semplice possibile se la situazione si ripetesse per esempio avessi otto tiratori che a coppie colpiscono quattro bersagli due col disco in primo bersaglio in due le scelte quante sono stavolta? due alla quattro quindi perché? con ogni coppia ne devo togliere uno prima sono due poi sono due poi sono due poi sono due poi sono due quindi capite bene che questa situazione è ben diversa dalla precedente cioè rendere una funzione iniettiva significa fare una modifica più pesante sulla funzione e questo lo rivedremo anche più avanti ovviamente per rendere la sedentiva se non lo sono non è che la stessa funzione in ogni caso deve cambiare però nel primo caso è facile cambia poco poco perché semplicemente tolgo via i bersagli che non vengono colpiti e nel secondo caso devo fare delle modifiche più sostanziali però una funzione si dice sedentiva quando tutti i bersagli vengono colpiti adesso questa sedentiva ogni bersaglio da quante frecce viene colpita? almeno una come prima al massimo una adesso almeno una vedete? questo è subiettivo si questo è colpito da una freccia questo è colpito da una freccia questo è colpito da due frecce ci potrebbe anche essere pensato di colpire da tre frecce quattro frecce in più nulla lo impedisce se deve essere solo subiettivo però almeno una ma per ogni y esistente quindi almeno chiaro? fino a qui poi vabbè farete degli esercizi oggi ha una funzione allora lo scrivo così facile più facile iniettiva più subiettiva uguale bionivoca no perché è subiettiva ma non è subiettiva ma non è questa è bionivoca stavolta sì allora se il dominio e il codominio hanno un numero finito di punti vi univo che significa che i tiratori sono in tanti quanti bersagli perché ogni tiratore ha il suo bersaglio e ogni bersaglio è colpito da un certo tiratore quindi è chiaro bionivoca vuol dire esattamente iniettiva più subiettiva cioè la definizione corretta sarebbe una funzione si dice bionivoca quando è sia iniettiva che subiettiva ora secondo voi quando è che una funzione si dice invertibile e qual è la funzione immersa? vediamo è una definizione la inventare quindi però se vogliamo anche rispettare il senso delle parole cioè se io dovessi fare la funzione immersa di questa che dovrei fare? Funzione immersa che significa? che fai? potrai il dominio di alberi e tiratori e il dominio dei bersagli eh se questa è una guerra quelli i bersagli stanno a guardare immaginiamo dei bersagli reattivi d'altro canto se tu hai un pezzo d'artiglieria spari qua quale è la cosa più probabile? che questo si piglia spari indietro allora facciamo la funzione immersa quale sarà la funzione di questa? f-1 no si nel senso che poi viene chiamata con f-1 ma cosa fa? quando dico quale sarà significa cosa deve fare? quando un elemento di y si colpisce un elemento di y se no un elemento di y non dispone e colpisce un elemento di y allora è l'unica funzione che si ottiene leggendo queste frecce tutto al contrario ma per leggere le frecce al contrario qual è il presupposto? e cioè che la funzione di partenza come deve essere? b-univola se non è b-univola come la faccio la funzione di immersa? allora se il concetto è rispondere a 1 perché io ho un colpo solo se devo fare una funzione ho un colpo solo vi ricordate? allora se un bersaglio non viene colpito come dico non è stato provocato a chi deve rispondere se invece viene colpito da 2 io ho un colpo solo ma ho chi risponde a quello o a quello come vedete non è definita bene allora la definizione di funzione immersa è questa definizione data f da x in y la funzione si scrive così da i f due punti x frecce y vuol dire che qua l'aldominio x ecco l'aldominio x bi-univoca si dice f f a-1 da y a valori in x la l'unica quando dico la è l'unica funzione è però diciamo tale che tale che tale che tale che f a-1 di y è uguale a x se solo se f di x è uguale a y e questa non è una definizione questa è una condizione cioè io vado a definire qua non è per definizione sto facendo una definizione ma sto dicendo che f mando y con la f a-1 su x se solo se f di x era uguale a y cioè l'elemento y del dominio cioè il bersaglio risponde a x che era il tiratore che gli aveva sparato risponde con f a-1 chiaro? quindi come si fa formalmente a disegnare con questo schema la funzione inversa? è basta mettere tutte le frecce cioè se lei con le frecce da sinistra verso destra è f e se lei con le frecce da sinistra verso sinistra è f a-1 è chiaro? quindi sono uniti ogni tiratore c'è il suo pezzaglio e ogni pezzaglio c'è il suo tiratore quindi se li leggi in un senso alcuni sono tiratori altri versagli se li leggi nel senso opposto i versagli diventano tiratori e i diratori diventano versagli è chiaro fino a qui? ok questa è la base poi i dettagli eccetera li vedrete durante il corso che non abbiamo tempo di fare però questa base deve essere solida deve essere la dovete capire bene anche perché adesso lo andiamo a ritrovare nel nei grafici di rette e paraffole per esempio ok? ok ok bene quando dicevo prima che non sempre la matematica si adatta bene alla realtà cioè è un strumento utilissimo per capire la realtà però bisogna stare attenti a come si modella facciamo un esempio spesso tra i matematici o anche gli ingegneri eccetera c'è una definizione professionale per cui questi si sposano vanno in giro stanno facendo una giornata fuori con la famiglia in giro dopo di che arrivano alle 5 alle 6 insomma quando hanno finito il giro vabbè facciamo f al meno 1 che significa? volendo significare ovviamente torniamo a casa secondo voi è adeguata come cosa? no 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 perché tu quando fai f al meno 1 mica ti rifai al contrario tutti i giri che hai fatto no no per esempio tu sei andato a visitare questo questo quell'altro cioè alla fine prendetene e torni a casa per la fine più breve non è che rifai tutto al contrario effettivamente no? quindi già questo è un esempio di un piccolo abuso però vabbè quello lo sa benissimo però dice f al meno 1 così rende chiaro il concetto siccome ne avrà parlato ogni evento della famiglia ha fatto una testa così con f al meno 1 ma quelli già sa che f al meno 1 ce ne andiamo a casa però volevo fare un altro esempio l'anticipo qua così anche questi 5 minuti sono più leggeri prendiamo il bilancio di un'azienda no? vabbè i maschietti qua sono una maggioranza anche se non una maggioranza un po' più esagerata però prendiamo ad esempio la società di calcio il bilancio da causa e dato incassi meno spese eccetera ma alla fine c'hai una differenza no? dare la fine sono due cose diverse il bilancio dell'anno e lo stato patrimoniale però io per semplificare parlo diciamo di tutti i due debiti e tutti i due crediti quindi parlo meglio dello stato patrimoniale ok? allora abbiamo tre aziende anzi due aziende scusate un'azienda ha il bilancio in pari non ha debiti non ha crediti è appena partita non c'è nulla l'altra azienda pure ha il bilancio in pari però ha e oppure lei è appena partita però ha un milione di euro di debiti e un milione di euro di credito perché? semplicemente c'è un milione di euro di cassa che gli è stato appena prestato mettiamo pure che lasciamo stare gli interessi mettiamo che adesso gli interessi stanno a zero quindi la banca gli ha prestati gli interessi a zero per qualche motivo non è realistico ma supponiamo pure che togliamo da mezzo gli interessi da un punto di vista patrimoniale le due situazioni sono perfettamente equivalenti ok? ma nella realtà sono ugualenti no qual'è la differenza? in realtà là c'è stato un impasso la spesa e mentre l'altra ancora non ha avuto eh ma qual'è la dal punto di vista pratico come si traduce? cioè quella che ha un migliore di credit vuole ridurre i crediti fattori rischi in quel caso nessuno rischia niente zero credit zero debiti cioè ci sono creditori no? nell'altro caso il proprietario dorme tranquillo nell'altro caso metti che il proprietario ha appena preso questi qua decide di investirli dorme tranquillo fino a certo punto lui si attende che questo milione di euro rientri con i profitti quindi invece di un milione rientri un milione di euro se però le cose vanno la cava sotto e lui mettiamo che lui abbia dato in garanzia i suoi beni per avere il milione di euro di debito la camera diciamo che non si prende interessi però se ti da un milione di euro di crediti ti porta una garanzia no? e quindi ci ha dato come garanzia la sua casa e altri beni che ha vive un po' più preoccupato perché dice se questi non rientrano io non riesco a ripagare i debito quello viene e si piglia a casa lui chiaro? viceversa supponiamo che al contrario quello sia dato alle garanzie ma non le garanzie erano fittizie la casa non ci sta chi ha pagato il milione di euro se ne va in qualche isola tropicale dove non c'è l'estradizione non sto suggerendo che questo sia un comportamento anche perché poi quello finisce cioè non ci cambia poi rimani sull'isola però capite bene che non è la stessa cosa ma dal punto di vista matematico 0-0 un milione meno un milione fa sempre 0 allora è adatto la semplice differenza a modellare quella situazione? no ci dobbiamo aggiungere qualcosa che contempli il rischio se noi modelli economici non esisteremo è chiaro poi il rischio è anche il motivo per cui molto spesso la banca va cercando un interesse se no non si spiega che quelli che vogliono invece di un milione vogliono un milione e qualcosa in più chiaro? ok quindi bisogna stare attenti bisogna imparare gli strumenti matematici però poi bisogna stare attenti cioè chi è che fa i modelli per l'applicazione degli strumenti matematici alla realtà? ebbè gli fa il fisico gli fa il biologo gli fa chi ha studiato un certo fenomeno e ne ha individuato per esempio le equazioni qualche volta per certi problemi fa pure l'ingegnere l'ingegnere più spesso applica modelli fatti magari da altri però è quello che poi magari deve saper fare i conti praticamente matematici è quello che ti dà gli strumenti matematici quindi che l'ingegnere è quello che li usa e poi ci sta niente che deve fare il modello però l'ingegnere deve saper riconoscere se il modello va bene non è che io prendo l'abito quello dice no cazzo al pennello ma veramente mi sente che le spalle sono un po' strette no no ma quanti sta proprio bene se non sta bene non sta bene non è che posso mettere una giacca di una persona che pesa 50 kg su uno che ne pesa 80 chiaro? però per fare questo bisogna saper riconoscere se quel modello va bene bisogna saper pensare ci vuole comunque sempre spirito critico critico la parola critico da dove viene? crino significa setacciare discernere critica vuol dire separare quello che è giusto da quello che è almeno poi quando uno fa una critica perché dice no il mio filtro il mio setaccio questa cosa non lo passa poi ci guarda perché poi c'è un dibattito guarda che non lo passa perché tu l'hai visto di così mettilo di taglio e vedi che ci passa e poi c'è un discorso bene adesso facciamo la bicoccia che che la si mi mi viene qui è è Grazie a tutti